Fa discutere l'ordinanza del sindaco di Milano Letizia Moratti che vieta la detenzione e l'uso di alcol ai ragazzi con età inferiore ai 16 anni, entrata in vigore qualche giorno fa. Il problema è davvero serio considerando che l'Italia è tra i paesi europei con l'età media più bassa dei consumatori d'alcol. I ragazzi, secondo il Ministero della Salute, cominciano ad avvicinarsi all'alcol già a 12 anni. L'alcol viene metabolizzato da un enzima che si chiama alcol deidrogenasi, la quale trasforma l'alcol in acetaldeide ed altri prodotti di degradazione. Nel ragazzo questo metabolismo non è particolarmente sviluppato ed ecco che quindi l'alcol ingerito raggiunge velocemente picchi elevati nel sangue. Noi come genitori siamo responsabili della salute dei nostri figli e pertanto mai più daremmo da bere in casa nostra alcol a un bambino, a un nostro figlio che ha 12 anni. Il problema nasce quando il nostro figlio che ha 12 anni esce, va in pizzeria per la prima pizza e gira praticamente i locali. E non essendoci controllo il ragazzino può assumere quello che vuole. Non è che si fa una caccia alle streghe o un decreto forcaiolo dove si va a distruggere o a danneggiare alcune associazioni di commercianti o gestori di discoteche, per carità. Tant'è che l'Ascom, l'associazione di commercianti, è favorevole. L'intossicazione acuta da alcol può portare a quella che è la vera piega sociale che è l'intossicazione alcolica. I numeri delle richieste di intervento al pronto soccorso e di ricoveri per alcolismo sono impressionanti. Una richiesta che è pervenuta questa mattina, l'anoressia, etilismo cronico, esclusione Focolai, la ragazza è del 1985, quindi 24 anni. Capite che etilismo cronico in una ragazzina di 24 anni vuol dire che i problemi ci sono e sono abbastanza seri.